Spesso il coach è presentato alla stregua di un guru moderno. In realtà il coach non è un guru, il coach è un profeta, non perché legge il futuro ma perché sa cogliere nel presente i segni del futuro. Il coach sa leggere quello che lasciamo nello sfondo, il nostro potenziale inespresso e nel portarlo in primo piano più che vedere il futuro lo permette. Ho scelto di iniziare questo video con queste parole, in realtà è un'autocitazione perché sono prese dal mio libro Gestal Coaching dalla performance al talento, ma non l'ho fatto per promuovere il libro ma per promuovere il nostro corso introduttivo ai corsi della Gestal Coach Academy, ai corsi diciamo di coaching di ispirazione gestaltica, che è proprio l'attivazione del coach interiore. Un corso potente proprio perché è introduttivo. Nella Gestalt infatti il precontatto è ciò che permette al potenziale di esprimersi o di non esprimersi e quindi per noi è un corso molto importante nel quale ho disegnato, pensato proprio per permettere questa apertura di valore. È un corso, dicevo, agile perché te lo puoi scaricare subito, ovviamente pagandolo a un prezzo davvero basso rispetto al valore che troverai dentro, ma per noi è importante proprio perché tramite questa apertura poi è possibile capire anche se c'è uno spazio di potenziale successivo per iscriversi agli altri corsi, per cui è un corso che permette anche di fare una sperimentazione, quindi il prezzo basso ha questo obiettivo di permettere di orientarsi e non diciamo scegliere solo con la mente. Però è un corso ricco dove troverai una serie di webinar che ti faranno fare un giro di Gestalt, avrai la cornice del coaching gestaltico ma avrai soprattutto un webinar che ti permette di aprire la Gestalt, quindi il vero precontatto sul tuo potenziale. Poi c'è un webinar dedicato proprio al talento che è il fulcro del coaching gestaltico, cioè il lavoro del coaching gestaltico è proprio spostato sul tuo talento e sul talento dei tuoi clienti, quindi sarà un lavoro sul davvero qual è il tuo contributo che puoi portare sia agli altri sia nella tua vita, quindi quanto attiva la tua specificità e unicità nella tua vita, nelle tue relazioni. E poi un audio che ti permetterà di fare, di completare questo giro di Gestalt dove potrai incontrare proprio la tua guida interiore che sarà poi il tuo coach, il primo cliente di noi stessi siamo noi. Quindi farai un giro di Gestalt sul tuo potenziale ma anche sul potenziale che potresti avere nel essere un contributo per gli altri facendo il coach o utilizzando le skill di coaching nella tua professione attuale. Con questo video quindi spero di averti dato gli elementi per accendere il fuoco se c'è, se la braccia era, se era pronta oppure per capire se questa non è la tua strada. Io sono Gabriele Baroni della Gestalt Coach Academy e ti aspetto nel modulo l'attivazione del coach interiore.